Questa manifestazione gioiosa di protesta al tempo stesso contro i decreti che sono stati emanati per le ricerche petrolifere ha un duplice effetto, quello di sensibilizzare tutti quanti i cittadini delle regioni adriatiche a opporsi ad uno sviluppo assolutamente incompatibile con le bellezze artistiche e naturalistiche che rappresentano la costa adriatica. E poi l'altra è quella di mobilitare le istituzioni perché si metta mano ad una riforma normativa per l'abrogazione di quelle norme che ancora oggi consentano di poter trivellare nei nostri mari.